Un'altra sconfitta per la Samp, un'altra sconfitta che arriva pesantissima, ormai le partite sono sempre meno come ho già detto in altri video, purtroppo non ci si può fare niente. Noi continuiamo a seguire la Samp, ma c'è da dire che nel primo tempo, a parte i due svarioni sui due calci piazzati e quindi di conseguenza i due gol della Juventus, abbiamo visto una bella ripresa e una bella risposta fino ad arrivare al 2-2, due gol in due minuti, una Samp che ha continuato a cercare di giocare il più possibile la palla, ma una Juve che comunque sbaglia anche un calcio di rigore con Vlaovic nel secondo tempo, che prende il palo, quindi diciamo che è stata sfortunata in quell'occasione. Una Samp che arriva a Torino in grandissima difficoltà societario e in grandissima difficoltà anche di squadra, di spogliatoio per tutti gli infortunati, l'ultimo non da poco, Emil Audero, nostro capitano e nostro primo portiere. Questa sera ha giocato Turk in porta al posto di Audero, secondo portiere, un ragazzo giovanissimo in prestito che arriva dal Parma appunto in prestito, che si è comportato anche abbastanza bene in tutta la partita e verso la fine del match ha anche fatto due parate non da poco. Non ci si poteva aspettare molto di più, come ho detto, per i vari infortunati e per la situazione che stiamo passando, si può dire che abbiamo visto un collettivo che cerca in qualsiasi modo di arrivare a un risultato. Un punto sarebbe stato il massimo da poter portare via da questa partita, non è arrivato, adesso testa al Verona, testa al resto del campionato e cerchiamo di fare qualsiasi risultato possibile fino alla fine dell'anno. e rinnovo l'appuntamento tutti i martedì sera su canale SamTube, sulla piattaforma Viola, Twitch, martedì sera dalle 21 in poi, collaborazione canale Doriano e canale SamTube. Guarda a dormire, buonanotte, forza Doria, Doriani non mollate, mi raccomando. Un bacio.